carissimi amici carissime amiche salve a tutti volevo oggi rispondere a qualche vostra sollecitazione circa queste conflittualità che ci sono nella nella vita che generano sentimenti negativi che portano anche ad estreme conseguenze quindi riferisco soprattutto all'odio ecco l'odio che serpeggia anche nelle famiglie a volte no ed è un sentimento molto negativo ovviamente a partire diciamo alla all'altra faccia della medaglia dove da una parte c'è punto l'amore il sentimento opposto è proprio l'odio un odio che a volte se si scava dentro a quest'odio fino alla profondità troviamo proprio l'amore perché spesso questo questo sentimento chiamiamolo così nasce proprio da un antico amore da un'antica passione che poi si trasforma e degenera ed è questo il vero problema ed è qualcosa che fa molto male perché perdura perdura nel tempo si dice appunto quante volte avete sentito dire che poi chi ha odio vuole vendetta che è un piatto che si serve freddo per dire che a volte questo sentimento ci accompagna anche per tutta la vita perché l'odio si accomuna spesso al sentimento di vendetta allora una delle soluzioni forse l'unica soluzione è riempire di felicità la propria esistenza come scriveva Alda Merini la grande poetessa diceva la miglior vendetta la felicità ecco se proprio ci si vuole vendicare diciamo metaforicamente di una persona che ci vuole del male o che ci ha fatto del male la miglior vendetta è la felicità cioè il farsi vedere felice è un sentimento tipico dell'uomo tipico della mente umana perché in natura non mi risulta che esistano episodi di odio negli animali ad esempio gli animali aggrediscono uccidono per una forma di necessità di nutrimento addirittura di sopravvivenza quindi non è che hanno queste elaborazioni dovute all'odio è questo che si sviluppa proprio nell'uomo a volte anzi spesso è derivato da un sentimento sia di inferiorità sia di ignoranza che porta a fare della propria vita un'opera del tutto negativa può diventare addirittura un fattore patologico cioè un modo di vivere di avere sempre un nemico contro cui combattere e molto spesso ad esempio abbiamo riguardo i femminicidi la violenza sulle donne spesso deriva da questi odi che alcuni uomini provano perché non riescono a dare un senso alla loro vita e quindi sfogano su queste povere donne un loro sentimento di frustrazione perché non accettano ad esempio la fine di una storia o semplicemente la fine di una proprietà come alcuni considerano il rapporto di coppia la perdita del potere come si dice ma l'odio è un sentimento universale che noi lo ritroviamo non solo nei rapporti a due o nell'ambito privato ma lo vediamo dappestutto lo vediamo in giro lo vediamo quando accendiamo la tv ad esempio lo vediamo in politica quante rivalità diciamo di questo tipo per non parlare delle religioni le guerre di religione pensando a tutto quello che sta accadendo oggi nel mondo e quindi si pensa di poter stare bene solo con la eliminazione a volte anche fisica dell'avversario però è una utopia perché anche quando quando riesce questo sfogo di odio poi non si è mai felice e quindi ecco che l'unico antidoto secondo me è la felicità ecco è l'amore che è l'unico antidoto a questo sentimento per il resto non c'è tanto da fare quando ci sono queste persone magari evitarle forse evitarle e dobbiamo anche lavorare un po' su noi stessi perché potenzialmente anche noi siamo persone che potremmo odiare come siamo capaci di amare quindi dato che è un sentimento che non nasce improvviso allora facciamo attenzione a non farlo nascere non insistiamo sulle situazioni che non ci appartengono bisogna disinnescare quelle potenziali occasioni di contrasto che poi vanno a degenerare perché poi chi odia chi vuole vendicarsi automaticamente non riesce più nemmeno ad amare perché chi riesce ad amare chi ama non può avere spazio per l'odio cioè sono le facce della stessa medaglia ma non si vedono mai non possono mai coesistere contemporaneamente nella stessa persona quindi chi ama non riesce a odiare e allora però dobbiamo renderci conto perché se viviamo nella società che alla fine è così non è che esiste esiste sia nella vita privata nella vita sociale per un amore tradito un'amicizia finita vedete come nel caso in alcuni casi come nel caso di Pierina Paganelli che stiamo trattando ecco vedete quanto quanto odio perfino ad esempio la Valeria Valeria la moglie di Luis che odia così tanto Manuela e che ha fatto capire che lei si potrebbe vendicare in qualche modo ecco io sono convinto che se Valeria provasse amore per qualcuno cioè se se il suo sentimento riuscisse ad essere positivo verso un'altra persona automaticamente scomparirebbe quel desiderio di vendita perché il sentimento positivo dell'amore va a disinnescare automaticamente perché quando si vive un'esperienza d'amore automaticamente non si ha più il tempo né il modo né la propensione per per odiare tutto al più si resta indifferenti verso quella persona verso cui provavi odio ecco viene questa potenzialità pericolosa dell'odio viene di fatto disinnescata e quindi abbiamo esempi anche nei casi in cui trattiamo qui sul canale no? quante volte e ricordiamoci pure di un'altra cosa che l'odio fa male soprattutto a chi lo prova si vive a volte anni in questo sentimento negativo che corrode dentro e quando anche riesce diciamo una certa vendetta verso quell'altro soggetto non è una gioia vera ecco non si riesce mai a essere contenti perché ti rimane dentro sempre un vuoto perché la soddisfazione di fare del male in un'altra persona non è mai una vera soddisfazione perché perché l'odio svuota il cuore svuota il cuore l'amore lo riempie l'amore è sentimento positivo l'odio è sentimento negativo e quindi ecco perché è anche importante come dicevo l'altro giorno imparare a ad usare le parole ecco usare sempre parole di senso positivo perché ciò abitua il cervello a ragionare in modo positivo e quindi ad evitare quelle parole che poi ci fanno precipitare in un barato vedete sempre rimanendo nel caso di Pierina Paganelli ad esempio quell'assassino che ha ucciso Pierina e che probabilmente aveva odio l'ancore odio verso di lei ricordiamoci che c'è quella anche quella quella telecamera che registra addirittura una alla fine dell'accoltellamento quasi un moto di soddisfazione un suono gutturale dell'assassino che in quel momento ecco posta a termine quella cosa lì ma sono sicuro che chiunque sia stato non è felice non è felice non può essere mai felice di quello che ha fatto perché in sé questo sentimento negativo non può essere positivo è semplice però ricordiamoci di fare attenzione a noi stessi noi potenzialmente in ognuno di noi c'è un caino e c'è una vele potenzialmente così siamo noi a scegliere e coltivare il nostro modo di vivere quindi siamo lontani evitiamo disinneschiamo le situazioni conflittuali perché vediamo come le guerre sono solo odio e dall'odio nasce l'odio e non si arriva mai alla fine del male perché poi ci sono sempre delle conseguenze diciamo a catena quindi per concludere questa riflessione diciamo che esiste uno solo antidoto all'odio quello dell'amore quello di appassionarsi di innamorarsi di essere felici di avere amore amore per persone fisiche ma in generale e questo è l'unico antidoto gli altri ragionamenti teorici convincimenti non non ottengono risultato per chi odia chi odia deve solo cambiare in se stesso avendo amore altrimenti qualsiasi tipo di ragionamento non non attecchisce e dovremmo anche capire che poi vivere una vita così nel negativo non conviene diciamo prima di tutto a se stessi comunque questo è il pericolo maggiore della nostra società oggi lo vediamo nella vita sociale nella vita di relazione nella vita internazionale nei conflitti è un sentimento che pervade la società e che ognuno di noi nel suo piccolo deve fare il proprio ruolo essere postatori d'amore di felicità di positività solo così tanti di noi insieme riusciremo a dare un nostro contributo e se proprio non riusciamo a darlo in senso generale almeno diamolo a noi stessi che è già una gran cosa questo è tutto una piccola riflessione con voi grazie sempre e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti